Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Buongiorno Padre Pio, questa mattina vengo qui sotto la croce accanto a te ad affidarti questo giorno. Ti prego, proteggimi, guidami, difendimi, non permettere che io possa peccare né in pensieri, né in parole, né in opere, né omissioni. In questo giorno, caro Padre Pio, voglio amare Gesù come lo amavi tu. Voglio allontanare ogni tristezza dal mio cuore. Voglio iniziare questo giorno nella speranza, nella serenità e nella gioia. So che oggi il Signore mi manderà tante benedizioni e voglio avere gli occhi sereni per accettarle e gioirne. Allontana Padre Pio il maligno dalla mia vita, dalla mia famiglia e dalla mia casa. Tu, che con la croce in mano allontanassi il demonio dai tuoi figli spirituali, allontanalo per sempre anche dalla mia vita, affinché non possa più portarmi danno, non possa più portarmi dolore, non possa più portarmi inganno. Caro Padre Pio, oggi pregherò il Signore come lo pregavi tu. Reciterò il Santo Rosario. Mi sforzerò e lo porterò a termine perché so che questa è l'arma migliore per la soluzione di ogni difficoltà, questa è l'arma migliore per allontanare ogni problema dalla mia vita. Questa è l'arma migliore per difendermi e per difendere la mia famiglia. Caro Padre Pio, oggi prega per me. Vieni, accompagnami e fai di me un tuo piccolo figlio. Buongiorno Padre Pio. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.